Fa che si cerchino solo virgini giovani e belle. Quella che sarà più gradita al re sarà regina. Non dire a nessuno che sei una giudea. Ma... Da oggi sarai Esther. Tu ne conosci il significato. Esther, cosa vuoi indossare? Incontro con il reno. Porterò ciò che sceglierai per me. La storia di Esther, l'eroina biblica che salvò il popolo ebreo dal genocidio nel film di Raffaele Mertes, Esther, lunedì alle 21.05. Alzati Esther, regina di Persia e di Media.